ciao ragazzi come va tutto bene allora sono riccardo di ultimate success formula e quando mi vedete con la barba così in colta sapete che sto lavorando tantissimo quindi sto lavorando tantissimo con tutto il team per le novità nello specifico per l'evento del 19 19 maggio alle ore 21 se guardi questo video successivamente ti sei perso l'evento pazienza video ragazzi molto rapido dritto al punto al di fuori rispetto ai video programmati per la settimana dove usciranno alcune alcuni contenuti sfiziosi semplicemente per rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte da pochi fortunatamente ma c'è stata una persona molto molto insistente che ha letteralmente rotto le palle a tutto l'ufficio sul perché abbiamo tolto determinati video su degli asset partner allora ci tengo a rispondere solamente perché mi reputo una persona trasparente ma in realtà non vi devo dare nessuna spiegazione allora ho tolto alcuni video su degli asset partner non perché ci siano dei motivi strani ci siano degli scam ci sono quelle cose di io non tratto piattaforme non tratto scam non tratto cose di questo tipo l'ho fatto semplicemente perché siccome sto riorganizzando il brand della mia società del nostro team e ci stiamo focalizzando su quelli che sono i percorsi formativi e siccome youtube è l'unico media che io utilizzo per farmi per farmi conoscere per farvi vedere quello che faccio ho deciso di creare e di fare un po di pulizia per far risaltare maggiormente le interviste con il team i prodotti i servizi che stiamo lanciando eccetera eccetera quindi smettetela di fare i bambini quei pochi che siete smettetela di rompermi le palle sul perché faccio questo perché non faccio quello youtube è la mia vetrina è il mio negozio digitale ok e io ci faccio quello che voglio se vi va bene seguitemi se non mi va se non vi va bene andate da un'altra parte tanto è pieno di youtuber di influencer di ciarlatani e quindi andate tranquillamente a seguire loro mentre tu che mi stai rompendo le scatole sappi che ho dato le cose in mano a chi di dovere per rispondere in un determinato modo ok a quello che tu scrivi ok ragazzi quindi se avete dei problemi non venite a rompere le palle a me ok un abbraccio vi aspetto il 19 vi lascio qui sotto il link per iscrivervi 19 maggio ore 21 il burattinaio con le mani d'oro crypt edition vi regalerò una strategia molto interessante appena finito il video strategia di un'ora ve la regalerò per premiare la vostra al vostro tempo e la vostra fedeltà un abbraccio e a presto